Vandali notturni alla Lubic, fuochi accesi dentro la scuola Schippo a Vallefoglia, due anziane colpite Conferma dal centro-destra, pediatria rimarrà a Pesaro La nuova piazza Marconi a fianco del vecchio Palace Con 13.000 presenze totali si conclude il ROF 2023 Una buona serata cari amiche e amici di Rossini TV Per questa nuova edizione del Rossini News Telegiornale di giovedì 24 di agosto Che apriamo con l'ondata di caldo Che colpirà la regione Marche nella giornata di domani E in tutto il weekend Con bollino rosso per tutte e cinque le province Venerdì massimo rischio ad Ascoli e Fabriano Dove verranno raggiunti i 38 gradi Mentre a Pesaro e a Macerata le temperature toccheranno i 37 gradi 36 a Fermo e a Iesi, 35 ad Urbino e 34 ad Ancona Giornate fotocopia anche nel fine settimana Con 40 gradi percepiti a Pesaro Passiamo ora alla cronaca con altri episodi di vandalismo Che hanno colpito la città di Pesaro Alla scuola primaria Chiara Lubic di Pantano Un gruppo di malviventi è entrato di notte Ma non mettendo l'ingresso e dando poi a fuoco Alcuni punti interni dell'edificio I dettagli all'interno del servizio Questa mattina ci troviamo nel quartiere di Pantano All'esterno della scuola primaria Chiara Lubic Dove nella notte un gruppo di vandali Ha tenuto un comportamento degno del nome che portano Entrando all'ingresso dell'edificio scolastico Appiccando diversi fuochi che hanno generato scompiglio E sicuramente un grande caos Atti vandalici che risalgono alla notte a cavallo Tra lo scorso weekend e questo inizio settimana E che hanno preso di mira all'interno della scuola primaria di Vianitti I teppisti prima di tutto sono entrati Ma non mettendo l'ingresso I vandali infatti lo hanno scassinato Ora il cancello non si chiude più E frazione anche del portone della palestra Che si trova all'interno dell'edificio I vandali si sono poi divertiti ad appiccare diversi incendi In più punti della Lubic Disinteressandosi completamente del contesto in cui si trovavano Dopo aver appiccato una serie di fuochi all'interno dell'edificio scolastico I vandali hanno ben pensato di aprire e scassinare questa scatola Che conteneva l'estintore Estintore che poi è stato utilizzato per spegnere il fuoco All'interno della scatola ora ci sono solamente bottiglie di plastica E pezzi di plastica del contenitore rotto Fuoco dunque domato con estintori Di cui uno è addirittura scomparso Come se ad un certo punto il branco si fosse accorto Della crescente gravità dei danni La cenere del materiale didattico dato alle fiamme È finito poi ad intaccarsi su pareti Lavagne, banchi e pavimenti Episodi incresciosi come questo Lasciano una ferita aperta nella comunità Ancora di più quando si tratta di scuole Visti i valori e i principi Che il luogo cerca di trasmettere Accompagnando la formazione degli alunni Questi atti vandalici Sono spiacevoli in qualsiasi contesto Quando avvengono all'interno di istituti scolastici All'interno di un bene comune Della collettività e nel luogo della formazione Sono ancora più dolorosi Come amministrazione ci siamo subito attivati Per comprenderne le cause e l'entità Dei danni all'interno Danni che si possono fortunatamente Legare a una pulizia Intensa pulizia all'interno Dello stabile della Lubic Ma che non comporta la perdita Di materiale informatico Che potrebbe compromettere L'inizio dell'anno scolastico Non si conosce ancora bene A quanto possano ammontare i danni Ma i sistemi di videosorveglianza ed allarme Saranno i prossimi passi in avanti Verso una maggiore sicurezza Degli istituti scolastici della città Non solo le telecamere Possono essere un deterrente Per questo tipo di azioni vandaliche Ma anche dei sistemi d'allarme Con il dirigente Bosio Ci siamo già confrontati su questa tematica Insieme anche all'assessorato alla sicurezza Che fa capo a Enzo Bellone Negli altri organi della giunta Ci stiamo attivando per un controllo maggiore Non solo sull'istituto comprensivo Livieri Ma su tutti quelli che sono Gli istituti scolastici della città Nella notte tra martedì e mercoledì I carabinieri di Pesaro Dopo alcune approfondite indagini Hanno individuato una donna La cui scomparsa era stata denunciata Dai familiari a Sondrio La 54enne che era stata da amici ad Urbino Avrebbe dovuto raggiungere la Lombardia Partendo dalla stazione ferroviaria di Pesaro La donna però non è mai salita sul treno Previsto e ha spento il cellulare Diventati irreperibili I parenti hanno denunciato la sua scomparsa I carabinieri di Sondrio Che hanno allertato subito dopo i colleghi di Pesaro Forze dell'ordine che sono risaliti alla donna Grazie ad un messaggio inviato da lei stessa Da un telefono di uno sconosciuto La quale avvisava un'amica Che si sarebbe diretta al mare La 54enne è dunque stata localizzata a Pesaro In una spiaggia fosse sei ore in evidente stato confusionale La donna non è in pericolo di vita E si trova ora in osservazione all'ospedale di Urbino Ha dello spiacevole quanto accaduto A due donne anziane di Montecchio, di Vallefoglia Dove uno di questi giorni sono state vittime Di una tentata rapina da parte di due ragazzi Mentre le due signore stavano passeggiando nei pressi Di via Piola Torre I malviventi si sono avvicinati a loro silenziosamente Tentando di strappargli le collanine che indossavano Furto però non è andato a buon fine E i ragazzi che si sono dileguati immediatamente Senza lasciare tracce Vista anche la mancanza nella zona di sistemi di videosorveglianza Per le due anziane solo qualche ferita Ma immediata è stata la chiamata ai carabinieri Che sono intervenuti sul posto Di seguito è stata presentata la denuncia Per reato di lesioni contro ignoti Alle prime luci dell'alba il personale della guardia costiera E del comando di polizia locale di Pesaro Hanno proceduto lungo il litorale Alla rimozione di attrezzature balneari Come ombrelloni, sdraio e pali di supporto Che erano stati lasciati incustoditi sulle spiagge libere Un fenomeno frequente nonostante sia vietato da regolamento Come segnalato dalla presenza di cartelli E torniamo a parlare di sanità Con le rassicurazioni del centro-destra regionale Sul mantenimento del reparto di pediatria Al San Salvatore di Pesaro I reparti di pediatria, ginecologia e ostetricia Rimarranno a Pesaro Parola del presidente della commissione sanità delle Marche Nicola Baiocchi Che spegne ogni polemica sui servizi Da poco riaperti al San Salvatore E di un loro vociferato accorpamento All'ospedale di Fano per i prossimi 5 anni Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Ha riportato quanto espresso Dall'assessore alla sanità Saltamartini Rimarcando come sull'argomento Si sia fatta esclusivamente speculazione di colore politico Chiaramente è un reparto di fondamentale importanza E chi forse meglio di me lo sa Perché ho fatto tantissima fatica Per cercare di riaprirlo Di fare una mozione di maggioranza All'interno del consiglio regionale Siamo riusciti con la mia grande felicità Di riaprirlo L'interesse di tutti Degli operatori Dello stetico Che dei medici Di tutti gli operatori Di tutti gli operatori Ed è assolutamente un'eccellenza Il reparto di ginecologia Di striscia E di pediatria Dello spedale di Pesaro Quindi l'interesse di tutti Assolutamente Che rimanga tale E chiaramente la politica Purtroppo è anche questa Si cerca anche di strumentalizzare sempre tutto Quindi Si sta Fa parte Come si dice Fa parte del gioco Speravo sinceramente Che sui certi temi Ci fosse magari Molte più collaborazione E meno strumentalizzazione In previsione Delle prossime elezioni Amministrative Esiste un problema Legato al trasferimento Di reparti Che a borgine Nasce dalla Dalla scelta Della sede Di muraglia Che come tutti Bene sappiamo È stata una scelta Che è stata Forzatamente Avuta dall'amministrazione Comunale di Pesaro Che ben sapeva Che ci sono stati Dei problemi Conseguenziali Di spostamenti Dei reparti E quindi adesso Si sta ragionando Per cercare Di incastrare Un po' tutte le situazioni Per mantenere Reparti in sicurezza E garantire La costruzione Del nuovo ospedale Quindi è un problema Che si sapeva Che ci sarebbe Sicuramente stato I tecnici Lo stanno affrontando Secondo me Nel miglior modo possibile E quindi Non possiamo Pensare Che sarebbe stato Inevitabile Un problema Di questo tipo Adesso i tecnici Stanno facendo il loro lavoro Lasciamo di fare il loro lavoro E sorgerà A fianco del vecchio Palace La nuova Piazza Marconi Un'opera pubblica Come nuova porta D'accesso Tra il centro storico E la zona mare Non tutti i mali Vengono per nuocere Sembrerebbe proprio Il caso Dell'auditorium Scavolini Che a causa Di lungaggini Burocratiche Aspetta da più di otto anni Con costi triplicati Il suo completamento Eppure la conseguente E duratura Viabilità interrotta Su quel tratto Di Viale Marconi Per consentire La messa in moto Del cantiere Ha fatto scattare In giunta Un altro tipo Di ragionamento Tra la statale E Viale dei Partigiani Sorgerà infatti La nuova piazza Marconi Ridisegnata come Nuova porta D'accesso Tra centro storico E la zona mare Sarà così interrotta Permanentemente La circolazione Dei mezzi Resa provvisore In questi anni Senza però Aver prodotto Effetti negativi Di viabilità Da qui l'idea Del nuovo progetto Esecutivo Dal costo complessivo Di 450 mila euro Di cui una grossa fetta Sarà intercettata Grazie ad un bando Della regione Marche La preclusione Di questo tratto Di strada Durante questi anni Dei cantiere Abbiamo visto Che non ha dato Questi grandi risvolti Negativi In termini di flussi Di viabilità E questo ha dato Un'ulteriore spinta A una volontà Che era un po' Zanellare Quella di pensare A un intervento Forte di pedonalizzazione Di questo tratto Di Viale Marconi Quindi una pedonalizzazione Volta a realizzare Una nuova piazza Quindi abbiamo approvato Questo martedì In Giunta Un progetto esecutivo Che abbiamo anche candidato In un bando Della regione Marche Volta proprio A realizzazione Di interventi Su ciclo pedonali Quindi un percorso Che sarà pedonale Ciclabile Eliminando le barriere Architettoniche Tutto sul livello Con delle finiture Anche di pregio Un arredo urbano Che possa essere Anche diciamo Il driver Di un successivo intervento Su piazza Primo Maggio Un luogo Predisposto Per le persone Non per le macchine Per la socialità Per far vivere Con iniziative Con le attività Che poi si insedieranno Nei locali Del piano terra Del parazzetto Proprio dare Quella spinta In termini di vivacità Che ha caratterizzato Anche l'operato Di questa amministrazione Un nuovo fulcro Della socialità Che sarà arricchito Dalle attività commerciali Che sorgeranno Al piano terra Dell'auditorium Da martedì 22 agosto Fino al 22 settembre Sarà attivo Il bando Per i locali interessati E quindi abbiamo pubblicato Un bando Con rivolto Individuando anche Quelle che sono Le destinazioni Dei locali Che avranno Diciamo Lungo la direttrice Del food Perché abbiamo pensato A attività Che di servizi Di vicinato Per il locale Più grande Mentre per il locale Diciamo più piccolo Di 80 metri quadrati Invece come Di fatto Somministrazione Quindi Bar, pub Pizzerie da sporto E tutto quello Che riguarda Un po' Il mondo Del cibo In particolare Piazza e auditorium Sono due progetti Legati dalla rigenerazione Dell'area Ma slegati Per tempistiche Realizzative Un auditorium Su cui c'è Una grande attenzione Da parte dell'amministrazione La stessa direzione Lavori Affidata al dirigente Del servizio Nove opere Sappiamo tutti Quanto questa opera Questa infrastruttura Sia rilevante Sulle date Io non mi sbilanzo Non mi voglio sbilanzare Però sicuramente Servirà Avere questo contenitore pronto Però non ha capitato La cultura E si è conclusa Ieri sera Alla Vitrifrigo Arena La 44esima edizione Del Rossini Opera Festival Un'edizione Che ha chiuso Con un bilancio Positivo Con oltre 13.000 presenze In attesa Del prossimo anno Quello di Pesaro Capitale Italiana Della Cultura Dove il festival Avrà una durata Maggiore E proporrà Le opere Più celebri Di Gioacchino Rossini Un bilancio Che dal nostro Punto di vista E' estremamente positivo Numericamente Abbiamo confermato Le presenze Dell'anno Dell'anno scorso Con un programma Che certamente Esattamente Nel solco Della nostra tradizione Ma che era Meno mainstream Se vogliamo Meno blockbuster Direi Però il nostro pubblico Ci ha confermato Che è questo Che vuole da Rossini Per a feste Altri titoli Che ci possono trovare Solamente a Pesaro E che hanno Raccolto L'interesse Del nostro pubblico Prevalentemente Proveniente Dall'estero Rossini va conosciuto E se il rock Non è quello Che lo fa conoscere Non so Chi possa farlo Per cui Noi Vediamo Quali titoli Si sono presentati Meno E puntiamo Su questi Perché la musica De Rossini Anche su quelli Meno conosciuti È veramente Fantastica Per cui Ci sono tante sorprese A volte A venire a sentire Un'opera Che non conoscono E si impressionano Con la Qualità della musica Per cui È un dovere Noi dobbiamo Far conoscere Rossini E questo Lo stiamo facendo Con titoli Che si sono visti Mai Come la Edoardo Cristina Oppure una sola volta Come gli altri due Un'edizione Che si chiusa In maniera Molto molto soddisfacente Perché abbiamo Confermato I livelli di pubblico Dell'anno scorso A cosa non semplice Un quadro nazionale Europeo Di flessione Del pubblico Anche in festival Importanti Blasonati Come quanto I Rossini Per la festival Manteniamo Il numero di pubblico Su questo Ha avuto un'incidenza Importante Anche il successo Di concerti Nella fascia pomeridiana Del centro Concerti di bel canto Concerti di ricosinfonici Una lieve flessione Nei biglietti Non in termini Di numeri venduti Ma in termini Di prezzo Di biglietti Perché i concerti Hanno un prezzo Un po' più basso E perché Anche all'interno Delle opere Il pubblico Ovviamente In un momento Di contrazione Della spesa Si è orientato Verso Le file Meno Costose Però È un dato Dei tempi Probabilmente Che siamo fiduciosi Anche di poter Riprendere Anche in edizione 2024 Quando Avremo un'edizione Anche più grande Anche numericamente Più importante Con quattro giorni In più Un titolo in più Con titoli Anche Un po' più facili Di quest'anno Che è stata un'edizione In cui Abbiamo svolto Il nostro ruolo Di realizzare Tutti i rossini Meno conosciuti L'anno prossimo Pensiamo solo Al Barbieri Siviglia O anche Al Nuovo Ermione Insomma Saranno tutti I titoli Anche più conosciuti Più frequentati Dal pubblico Un incremento Del pubblico Mano a mano Che le rappresentazioni Andavano avanti Segnano anche Di un passaparola Sulla qualità Delle opere Sul fascino Quindi è un pubblico Che abbiamo acquisito In corsa 39 paesi Di provenienza Del pubblico Quasi un record Assoluto Oltre il 50% Di pubblico Che viene dall'estero E quindi Tanti elementi Di soddisfazione La Videofrigo Arena È sicuramente Uno luogo Per noi Molto efficiente Perché è un teatro Grande Dove si lavora Molto bene Dietro le quinte E dove c'è tanto Posto per il pubblico Il fatto di dover No di dover Di volere Di potere Riappropriarsi Di altri spazi Come il Teatro Rossini Sicuramente ci impone Delle riflessioni Il Teatro Rossini È il simbolo del festival Perché lì è nato Ed è giusto Che li torni Certamente La capienza minore Ci imporrà anche Delle riflessioni Nella scelta programmatica Ma diciamo Che sono tutte Letture estremamente Positiva Oltretutto Il Palace Cavolini Ha una capienza Superiore ai mille posti Quindi diciamo Non avremo Non avremo problemi Da questo punto di vista Ed ora spazio Alle vostre segnalazioni Nei giorni scorsi Ci sono arrivate Diverse Lamentele Per quanto riguarda L'assenza Momentanea Di attraversamenti Pedonali Tra Viale Gorizia E Via Cecchi All'altezza Della scuola Dell'infanzia Lo specchio magico Dopo il rifacimento Del manto stradale Avvenuto circa Tre settimane fa L'assessore all'operatività Belloni Ha fatto sapere Che la segnaletica Orizzontale Sarà terminata Una volta trascorso Un certo lasso di tempo Dall'asfaltatura Lasso di tempo Che si concluderà Entro il weekend Quando i lavori Di completamento Delle strisce pedonali Verranno ultimati Entro fine settimana E parliamo ancora Di asfalti Dove a Valle Foglia Sono terminati ieri Gli interventi Di manutenzione Di rifacimento Dei manti stradali In via Rampi E via Montecatria Montecchio I lavori hanno interessato Tutta via Rampi A partire dalla zona Della Casa della Salute E del centro commerciale Di via Piola Torre Fino alla scuola dell'infanzia Dove è stato anche Riasfaltato Tutto il parcheggio Adiacente Al plesso scolastico E sarà il pesarese Romario Culla A rappresentare l'Italia Ai mondiali Di breakdance In programma A Taipei In Taiwan Il prossimo 9 settembre Il ballerino Di origini brasiliane Ha vinto La tappa di qualificazione Unica in Italia Che si è svolta Sabato 19 agosto All'arena BCC Di Tre Ponti Dove oltre 400 persone Hanno assistito Alla gara E concludiamo Con lo sport Media Day E primi test fisici Nella serata di ieri Per Little Service Loreto Basket Che si appresta Ad iniziare La sua prima Storica stagione In Serie B Per me È un'avventura Un inizio Di una nuova avventura Molto stimolante Perché Diciamo che Comunque Si vuole costruire Creare qualcosa Di importante Abbiamo allestito Una squadra notevole Una squadra Che può lottare Per salire di categoria Chiaramente Il campo È sempre L'arbitro indiscusso Però ecco L'idea è quella L'idea di fare qualcosa Di veramente bello In questa città Che come ho detto Vive e respira Di basket Chiaramente Non abbandono Il Calciacinque L'ho sempre detto Perché comunque Il Calciacinque Ci ha dato notorietà Ci ha fatto conoscere In tutta Italia In tutta Europa Però ecco Affianchiamo A questa meravigliosa realtà Che è Little Service Il Calciacinque Il Little Service Loreto Basket E quindi L'idea stimolante L'idea accattivante È quella Di aver costituito Una polisportiva Inizia la fase Più intrigante Che è quella Della preparazione Che è quella Degli allenamenti Che poi ci conduce Ci guida Ci porta Fino all'inizio del campionato Che è diciamo Il momento più emozionante No È inutile nascondersi La squadra È molto competitiva E quindi Sarebbe quello Di provare a vincere Però La formula Non ci aiuta Sono 96 squadre Vanno su 6 Quindi Bisogna Oltre che Avere la squadra Bisogna avere fortuna Bisogna lavorare bene Forte Per quello Secondo me La società Si è attestata Non vuol far mancare Niente ai giocatori Quindi Devono solo Impegnarsi Fare di tutto Per Dare più la possibile Allora Di Pesaresi Abbiamo Abbiamo Broglia Che è stato È stato il primo giocatore Che abbiamo Provato a prendere Perché Negli ultimi Campionati Ha sempre Vinto E quindi Volevamo Mettere un giocatore D'esperienza Che ci aiutasse Che ci aiutasse Appunto A fare il meglio Possibile Sono veramente contento Di essere tornato a Cagia Dopo tanti anni Che ho giocato In G Vicino E meno vicino Però È stata una bella Occasiona Con l'Ital Service Quindi Un progetto Di alto livello Io Sinceramente Non vedo l'ora di iniziare Perché I ragazzi Chi più chi meno Li conosco un po' tutti Secondo me La squadra Sulla carta È un'ottima squadra L'obiettivo È dichiarato Quello di Provare Sede di categoria Però Sarà dura Perché è un campionato Di livello Ci sono tante squadre Attrezzate E E poi Sappiamo Che comunque Per vincere Di avere anche Quel pizzico di fortuna Arrivare Nei mesi decisivi Che sei in forma Che stai bene Senza infortuna Quindi Sono veramente contento Non vedo l'ora di iniziare Questa nuova avventura E dal basket Alla pallavolo Parte infatti Il 26 agosto Quindi sabato La campagna Abbonamenti Della Megabox Vallefoglia Per il campionato Di Serie A 2023-2024 Le partite Si terranno La domenica pomeriggio Alle ore 17 Al Pala Megabox Di Pesaro L'impianto sportivo Del quartiere Feristico Campanara Vicino al casello Dell'autostrada Il campionato Prenderà il via Domenica 8 ottobre Con le Biancoverdi Impegnati in casa Contro la Roma Volley Gli abbonamenti Saranno validi Per 12 partite Mentre la tredicesima Dedicata alla giornata Delle Tigri Sarà in vendita A parte Con un prezzo speciale E con le notizie E con le notizie di sport Si conclude qui Questa nuova edizione Del Rossini News Prima di salutarci Però vi ricordo Come sempre Gli appuntamenti Di serata Infatti questa sera Alle ore 21 e 20 Trasmetteremo Il palio Dei Brancaleoni Di Piobbico E poi a seguire Vi ricordo L'appuntamento Anche per domani mattina Alle ore 7 e 20 Come sempre in diretta Sia sul canale 80 Che sulla pagina Facebook Di Buongiorno Rossini La rassegna stampa Dei quotidiani Della provincia Di Pesaro Urbino Ed ora è veramente tutto Io vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata Grazie a tutti